Lo glielo giuro, le do la mia parola. Questo è suo figlio. Christine Collins. Lui non è mio figlio. La lotta di una madre. Io voglio che troviate mio figlio. Cerri avere suo figlio. Tu non sei mio figlio! Vivo. Allora perché il bambino dice di essere suo figlio? L'amore di una madre. Non ho cominciato questa battaglia, ma... Contro la violenza del potere. Sarò io a finirla. Angelina Jolie. Portatela via. John Malkovich. C'angeling. Domani 21 e 10. In Prima TV Canale 5.